partite lungo la corda per un attimo in vantaggio Bonita De Mas quindi allargo al bacio più all'esterno ceffone e linea swing che ora sembrano essere passati in vantaggio ma Bonita De Mas lungo la corda si ripropone al comando all'imbocco della curva con all'esterno ceffone poi al bacio linea swing allargo dei due Erten segue poi Lanoso con Bridge Cronos in coda gruppo ben riunito lungo la curva con Bonita De Mas in leggero vantaggio nei confronti di ceffone quindi Erten ancora Bloody Man che ora si avvicina ai primi all'esterno seguito da Lanoso e Bridge Cronos siamo ora in retta di arrivo con Bonita De Mas in vantaggio su ceffone allargo dei primi si sta proponendo Bloody Man nei confronti di Erten quindi più indietro Lanoso siamo a 400 dal palo con Bonita De Mas sempre in vantaggio nei confronti di ceffone che ha ora all'esterno Bloody Man che prova l'aggancio mentre all'argo di tutti cerca di risalire anche Lanoso Bonita De Mas sta allungando e Lanoso si propone incisivo al suo attacco nel tratto finale Bonita De Mas sotto la minaccia esterna di Lanoso che ci prova ma Bonita De Mas si salva e vince davanti a Lanoso al terzo posto Bloody Man nei confronti di ceffone e Erten andiamo a rivedere questa bella affermazione di Bonita De Mas numero 3 dello schieramento Federico Bosso in sella come trainer Raffaele Biondi numero 3 dunque a bersaglio in questa quinta di Napoli Bonita De Mas nei confronti di Lanoso numero 9 e al terzo posto il 2 di Bloody Man quindi il probabile ed ufficioso arrivo della quinta di Napoli è 3-9-2